L'incidente nel pomeriggio di domenica 14 febbraio, poco prima delle 16.30, a front, all'incrocio tra via Busano e via Rivera. A scontrarsi una Renault Clio e una Fiat 500. La Clio, in seguito all'impatto, è uscita di strada, terminando la sua corsa contro una rete posizionata sul prato. La 500 si è invece fermata in mezzo all'incrocio. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa di San Francesco al Campo e la Croce Verde, oltre ai carabinieri della Compagnia di Veneria Reale. Il lese e le due coppie a bordo delle vetture, che sono state controllate sul posto dei sanitari. La dinamica è il Valle dei Carabinieri. Il lese e 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 il Valle dei Carabinieri.